Ciao ragazzi, io sono Giacomo, sono un medico specializzando, vengo dalla Puglia e sono venuto qui a Torino per motivi di lavoro appunto per tre mesi. Sono arrivato a Torino il 25 di febbraio, nevicava, che per me era una cosa abbastanza insolita e questa è stata la prima di una serie di stanze e di soluzioni abitative che ho vagliato qui a Torino prima di prendere una scelta diciamo. Però poi alla fine sono venuto qui perché questa soluzione per me aveva tutta una serie di vantaggi. Ovviamente il fatto di stare proprio vicinissimo all'ospedale era un vantaggio importante, però in realtà non era l'unico. È stato molto importante trovare una casa pulita, accogliente, con delle coinquine meravigliose e anche con dei coinquini meravigliosi e soprattutto la possibilità di non dovermi occupare delle spese. Insomma per me l'unico problema era sentire i ragazzi all'inizio dell'esperienza e aggiornarci alla fine dell'esperienza. I ragazzi a che stanza sono tranquillissimi, gentilissimi, super disponibili e farò loro un sacco di pubblicità, quindi chiunque verrà in questa città, sappiatelo, passerà da voi. Grazie ancora di tutto.